Dopo tre mesi di indagini identificati, altri due stranieri che parteciparono alla ressa che sfociò nell'omicidio di via Gran Sasso a Pescara, in cui perse la vita un cittadino bengalese. Si tratta di due cittadini bengalesi come la vittima, sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Uno dei due risulta però irreperibile perché è rientrato in patria. I due sono stati identificati dai carabinieri del nucleo investigativo di Pescara e ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Il 4 gennaio scorso avrebbero partecipato alla lite in via Gran Sasso sfociata con l'accoltellamento mortale di un 44enne loro connazionale. Per quel grave fatto di sangue è finito in carcere e lo ricordiamo un 63enne marocchino. Il 4 gennaio scorso avrebbero partecipato alla polizia giudiziaria.